ragazzi e ragazze bentornati ci troviamo di nuovo qui su undisputed ho visto che il gioco vi è il video è piaciuto molto e quindi io sinceramente mi sono profissato una piccola roadmap e ora vi svelerò vorrei fare adesso un altro incontro sempre un incontro diciamo offline quindi contro la cpu con utilizzando i pesi leggeri femminili perché c'è anche la categoria femminile quindi piacerebbe portare anche quella dopodiché un'altra volta avremo un altro video sempre con una partita offline quindi sempre contro la cpu utilizzando i super massimi maschili quindi il pop del top ragazzi sono anche pugili leggendari quindi non solo quelli attuali e avremo la possibilità di provare proveremo la modalità simulazione che interessante e la proveremo in quel momento lì dopodiché vorrei portarvi un ultimo video quindi questo di questo quartetto di video dal primo proviamolo a questo andrò a modificare che eventualmente i numeri proprio su sui video per far capire ci sono altri diciamo altri video e faremo una probabilmente classificata online vediamo vediamo ora entriamo in andisputed che a un menu iniziale silenzioso totalmente quindi un incontro rapido non perdiamo altro tempo lo facciamo al meglio delle quattro riprese perché non voglio fare un video di mezz'ora tutte le volte non serve secondo me quindi va benissimo fare un video assolutamente normale piego lato blu e andiamo con light trigger vedete c'è pesi gallo piuma pesi leggero welter medi medio massimi di massimi leggeri e pesi massimi per le donne c'è pesi leggero e pesi welter andiamo in pesi welter per le donne sono solamente no andiamo in pesi leggeri c'è più gente vediamo beh io direi non le conosco purtroppo prenderemo katie taylor contro diciamo vorrei una sfida abbastanza chantelle cameron il capo eccola qui ci siamo ragazzi utilizzeremo le donne perché ci sono e non vedo perché non dovremmo utilizzarle io credo che in carriera ci sia la possibilità di utilizzare entrambi i sessi magari aggiungeranno altre altre categorie di peso al peso diciamo alla categoria femminile l'ultimo incontro l'abbiamo fatto al wbc arena quello di prova diciamo dopo il tutorial scenderei all'empaire profile camp night probabilmente poi no facciamo al booking hall facciamo cosa di più di più intimo a difficoltà dell'ia intermedia professionista and dispute dilettante in termini la scena intermedia poverai più avanti a spingermi su professionistica che la penultima difficoltà round 4 round tipo di gioco vedete qua arcade simulazione ascia market salata la campana no regoletta tempo relativo 1 penalità massimo lascia tutto uguale modificatore indulgenza dell'abito poi si possono fare molte modifiche e andiamo a combattere ragazzi vediamo come sono i combattimenti con il genit il sesso e io veramente ci sto giocando molto poco mi devo dire vi confesso la verità rispetto a quanto questo gioco mi abbia catturato con il gameplay però essendo molto limitato io non essendo volendo farmi anche di questo gioco il focus sull'online ve lo dico sinceramente mi piacerebbe giocarmelo molto banalmente contro la cpu e basta e basta vediamo vediamo come vedete l'arena molto più piccola di quella di prima c'è anche addirittura l'arena prima che sono incontri tra gli sfigati poi in mente match wbc pesi leggero ecco la presentazione l'angolo al l'angolo rosso chantel cameron da northampton regno unito 17 vittorie 0 sconfitte 0 pareggi 8 knock out e dall'angolo blu katie taylor 22 vittorie 6k o nessuna sconfitta and disputed anche lei la più grande atleta irlandese nel mondo della box fino a oggi eccola qua ed è la nostra nostra persona giustamente over power perché non vedo perché è il capo perché è il capo beh simply the best siamo andati molto su semplice ok ok devo ricordarmi i colpi devo ricordarmi i tasti colpi forti saltiamo andiamo direttamente in gioco ragazzi non vedo l'ora tenete conto di una cosa che ovviamente qui si tratta molto di mandare a segni colpi ragazzi non di tanto di far male vedete quando a tasseghi un bel colpo bel colpo forte al corpo della nostra avversaria questo è stata apparata anche questo questo invece arriva riusciamo ad essere abbastanza agili con la nostra katie taylor ahio colpo forte al direttamente al corpo questi colpi tolgono molto 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 vigore a un tensione questo avversario inizia a farsi sentire andiamo un po in copertura colpettino 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 questo no andiamo ancora colpa al corpo per cercare di sfiancarla questo l'abbiamo preso in faccia dobbiamo essere più stringere un po di più e quando vogliamo fare colpi caricati magari un jab un montante dobbiamo essere un pochino più vedete un po più lontani ma non troppo manca poco la squadra della campana ci proteggiamo il primo rando è finito così credo molto in parità ho avuto un'altra partita che ho fatto prima di questa in cui ho vinto sempre i punti per un punto uno o due si può vincere anche con una situazione qui giudici non sono d'accordo quindi è interessante questa cosa saltiamo let's go benvenuta mamma mia questa l'ha sentita in pieno far in pieno volto mettiamo sempre la copertura abbiamo iniziato bene ma che la nostra avversaria si è fatta sentire subito noi accorciamo qui con questi diretti aia occhio prova allontanarsi noi andiamo colpettino a corpo un altro colpettino a corpo molto bene colpo pesante non ha dato buon fine dobbiamo cercare di intercettarla quando arriva da noi quando è lei che cerca di accorciare esatto in questo modo qua l'abbiamo mancata di un niente bello 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 molto bene ovviamente facendo pochi round è difficile mandare in ko tecnico in ko scusatemi knock out queste atlete questi atleti perché sono the best of the best ovviamente io credo che al gioco rilasciato ci saranno tanti altri atleti con over o più bassi qui potremo probabilmente divertirci di più soprattutto legato il peso per quanto riguarda la carriera aia serie di colpettini al corpo aia questo l'abbiamo preso ovviamente in pancia bene accorciato così bene così bello questo bello anche questo qua molto bene proprio sul gong i danni il gonfiore si inizia a vedere a notare da da Chantel Cameron sulla parte sinistra del corpo possiamo continuare a puntare lì vedete che comunque a livello di salute siamo molto bene siamo molto bene entrambi quindi si giocherà anche questo sui round terzo di quattro su vittorio facciamo vedere bello questo bello questo bello questo occhio a usare tutta la stamina occhio esatto come stava dicendo il commentatore non è tanto quanti colpi ma quattro colpi per partire ma quanti colpi mandi a segno perché ovviamente i giudici valutano questo ecco anche le parate sono ovviamente molto interessanti ok ah pensavo di essermi parata in tempo ma bello questo no qua l'ha preso eh qua l'ha sentito anche questo ah questo no questo no occhio diciamo vediamo 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 la scherziamo questo l'ha preso però l'hanno scherzato un po' in stile di lotta libero ancora 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 libero se guardate taunt taunt che i taunt verranno aggiunti hanno detto sono molto curioso di vedere come ovviamente ci espone a fare i mongoli a prendere dei colpi in faccia più precisi da parte del nostro avversario occhio occhio che stiamo stavamo finendo la stamina abbiamo riscatto molto lì eh no qui troppo fuori preso ci siamo presi entrambi ma noi in testa con un colpo forte il gonfiore aumenta non di tanto siamo messi praticamente lì è un po' messa meglio lei con la stamina 95% abbiamo danneggiato poco la stamina è un mio errore danneggio poco la stamina devo fare più colpi per adesso si ha uh attenzione siamo sotto eh dobbiamo fare un run perfetto ragazzi perché mi sa che mi sa che è andata ha vinto la nostra avversaria wow beh si si mamma mia le stiamo prendendo cerchiamo di non riusciremo mai a mandare la tappeto perché è troppo ci vuole troppo tempo occhio no qui qui abbiamo perso avete visto è in vantaggio la nostra avversaria dobbiamo fare un round proprio schiacciante ma non è questo il caso e il capo Chantel Cameron si porterà a casa la vittoria del round del 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 match che del round come si è portata a casa gli ultimi tre brava brava lei è bene così perché se io intermedio alla terza partita l'avessi vinto di fila eh vabbè dico non va bene comunque rovero al 9c 91 a 86 mi fa molto piacere che non ci sia questa enorme differenza nel senso che ho preso un 91 tu 87 ti distruggo no ci credo che l'ha mancato con quel colpo non ci credo vieni 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 presa no roccio occhio 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 ecco l'abbiamo presa non abbiamo fatto un pessimo round però l'ha vinto lei il match la porta a casa la cameron sicuramente molto più brava overall voglio vedere come ci hanno valutato noi l'abbiamo comunque conciata per le feste in la rifaccia ma giustamente come vi ho ripetuto qui vanno a valutare il colpo dato a segno eh infatti guardate soltanto un arbitro un giudice ci ha dato la vittoria al quarto round 19 19 19 19 19 per tutti gli altri 40 36 39 37 quindi assolutamente decisione unanime mentre io ho vinto con una decisione non unanime due giudici su tre avevano dato la vittoria vediamo un attimo guardate 63% io ho sprecato una valanga di colpi caspita i ganci guardate ho mandato in corpo in colpo soltanto il 48% dei ganci 97 e soltanto 47 che sono entrati eh questo è stato il problema a mio avviso e questo è stato il problema non lo sapete la sua testa sinistra del gonfiore ah non ci ha salvato mamma mia no l'è stata precisa vedete ecco ecco questo deve essere preso ad esempio questo match e sono contentissimo sia uscito io ho fatto super aggressive lanciare colpi a caso lei guardate 23 colpi 16 a segno io ho 45 più del doppio quasi e solo solo i 26 mandati a segno sono 10 in più di lei ma molti meno in confronto a quelli che ha mandato lei a livello di percentuali ancora peggio qui 14 colpi a segno su 18 io ho 17 su ben 42 e l'ultimo round ha diminuito anche lei ci siamo avvicinati un po' ma lei è sempre stata molto più brava di me 50 44 70 58 78 40 58 47 abbiamo primeggiato poco abbiamo primeggiato poco ragazzi abbiamo sprecato una valanga di colpi una valanga di colpi e pepe penso contento che sia venuto fuori così brava Chantel torniamo a menu principale io ragazzi vi ricordo appunto come vi ho detto che il prossimo video sarà ancora un incontro rapido super massimi maschili magari poi vedrò di vedere io chi scegliere tra se fare un incontro del giorno d'oggi o buttare dentro un Rocky Marciano a caso perché c'è e farlo in modalità simulazione sarà molto divertente farlo e dopo un incontro online magari ranked perché come vedete carriera coming soon online c'è già le classificate hanno già fatto due aggiornamenti che hanno sistemato alcuni piccoli problemi e abbreviato le possibilità di scelta nell'online per fare in modo tale che la gente non fosse splittata tra tutte le divisioni gallo, leggero medio, massimi ma capito ne hanno tolte un po' per far venire diciamo un po' più di persone insieme ad affrontarsi perché se no probabilmente l'attesa era troppo lunga quindi bravi e noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi like iscrizione se l'avete ancora fatto se volete vedere altri video di Undisputed condividete ragazzi e al prossimo video ciao